Salve carissimi, di tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mia. Benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di una special edition, piuttosto speciale se vogliamo, perché è una Topolino Extra Edition. Nuovo ciclo di volume dedicati ad un autore e a un disegnatore. In questo caso qui abbiamo una coppia d'autore con tutti i quack, quindi tutte le storie, con i paperi scritte da Carlo Candy per i disegni di Giorgio Cavazzano. Si tratta di un duo, quindi molto ben riuscito. Vi faccio vedere giusto alcune tavole interne. Questa qui è una delle prime storie che troviamo nell'albo. La più antica, la più vecchia che troviamo ha questo stile di disegno, che è un topaparino aspirante supereroe. Ma andiamo con ordine. A che cosa serve questo volume qui? Sicuramente a far riscoprire un grande maestro Disney, Carlo Candy, che anche nell'ambiente, anche tra gli appassionati in realtà, più che nell'ambiente, non è un nome così altisonante, così riconosciuto. Mentre questi albetti sicuramente gli danno un certo peso, un certo valore. Un certo peso, un certo valore anche per i personaggi che Carlo Candy ha introdotto nel mondo di Topolino. Metà dell'albo, infatti, fondamentalmente buona parte dell'albo, più di metà probabilmente, è dedicato alle storie di Carlo Candy con protagonista Ok Quack, che vediamo anche ritratto in copertina. Ok Quack è un personaggio piuttosto particolare, piuttosto tipico, che verrà ripreso probabilmente nel corso di questo 2018, quindi diciamo che è anche importante il fatto che ci sia un albo che ritrae questo personaggio in questo contesto. Ok Quack è un alieno che proviene da un altro pianeta, da un'altra dimensione. Ha viaggiato su una sua astronave che ha forma di monetona, fondamentalmente, e che può rimpicciolire fino a farla sembrare una moneta di 10 centesimi, fondamentalmente. E che cosa è successo, purtroppo? Che la sua moneta si è dispersa nelle deposite di De Paperone, poi è stata venduta, è stata data via, e quindi fondamentalmente Ok Quack è alla continua ricerca della sua moneta astronave. Diciamo che il plot di per sé non è neanche particolarmente affascinante o originale, se vogliamo, ma le storie che Carlo Candy scrive su questo personaggio sono molto emozionali, in quanto, in maniera anche abbastanza didattica, se vogliamo, ci parla di tematiche importanti, tra cui innanzitutto il rispetto dell'altro, l'ecologia, la diversità, e anche, soprattutto questi temi, l'ecologia innanzitutto, fondamentalmente, che ritorna più e più volte. Ok Quack viene da un pianeta bello, un pianeta rigoglioso, un pianeta verde, un pianeta bello, un pianeta terra, che sarebbe un vero pianeta terra, molto molto ben riuscito, mentre qui Carlo Candy fa una critica anche piuttosto forte a De Paperone, o comunque sia ai magnati che, in una qualche maniera, sfruttano il nostro pianeta, rendendolo non più ecosostenibile. Ecco, Carlo Candy, invece, con Ok Quack, a più riprese, ci fa notare questa cosa qui, con una poetica e una dolcezza molto toccante, molto nelle corde di... che riesce veramente a colpire veramente le corde dei cuori di molti lettori, a me, sinceramente, mi ha colpito particolarmente. Ma non solo Ok Quack, anche Imperio Bogarto, altro personaggio investigatore, piuttosto bislacco, viene introdotto proprio nelle storie di Ok Quack, e io avevo visto, avevo letto tutto un ciclo di storie, cioè non è che le avevo lette tutte, però avevo letto diverse storie del ciclo di Elementare Paperoga, con Imperio Bogarto e Paperoga, che fanno delle indagini assolutamente bislacche, fondamentalmente, ed è stato veramente piacevole scoprire quali erano le origini di questo personaggio. Ma questo volume non si limita a questo, per quanto Buona Parte è veramente legato, ecco, vedete, Buona Parte, questa parte qui, su tutte le storie di Ok Quack, ci ripropone anche altre storie, dal sapore più classico, un sapore già visto fondamentalmente nelle storie dei grandi maestri Disney, Romano Scarpa, Rodolfo Cimino, Karl Barks e tanti altri autori. Quindi, diciamo che la prima parte è molto interessante, soprattutto per il personaggio di Ok Quack, la seconda parte contiene delle storie che non saranno originalissime, non saranno riuscitissime in alcuni loro punti, ma tutto sommato sono estremamente gradevoli da leggere e da avere. Questa Extra Edition si prefigura come una delle mie Special Edition preferite, veramente si trova a quel livello tra la Sunny Edition, che ho amato particolarmente, tra la Diamond Edition, che ho anche quella lì, ho letteralmente amato, la Flu Edition, si trova più o meno a quei livelli lì, e mi sento di consigliarla, soprattutto se non conoscete questo personaggio, Ok Quack, se non conoscete le storie del maestro Candy, e anche perché sono disegnate ottimamente da un Giorgio Cavazzano, poi chiaro che quelle storie sono più riuscite di altre, altre sono delle vere e proprie gag, questa è Paperino e la Casa Gonfiabile, che è veramente un susseguirsi di gag anche piuttosto surreali, quindi abbiamo da un lato le avventure, in l'altro abbiamo semplicemente delle gag piuttosto ben riuscite. Questo album qui io ce l'ho perché era già uscito a Lucca Comics & Games, in anteprima, molti l'avranno già acquistato a Lucca Comics & Games, dovrebbe uscire comunque sul finire del mese di gennaio, nel frattempo avevo fatto una video-opinione, non più a caldo caldissimo, quindi ho alcuni vuoti, leggo i titoli, più o meno ricordo la storia, ma non ce l'ho freschissima, però era giusto che ve ne parlassi e che vi consigliassi questo volumetto piuttosto ben riuscito. Questo è quanto avevo da dire per oggi, qui da Francesco e da Zipo Perone alle mie spalle è tutto, noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!